Domenica 16 gennaio si riparte fortunatamente in presenza la settima attesa scuola di formazione politica. Già duemila ragazze e ragazzi fra i 15 e gli 80 anni negli anni passati hanno avuto modo di partecipare, di capire, di ascoltare, di proporre docenti universitari, imprenditori, professori, giornalisti, commercianti, politici e sportivi. Sei domeniche da dedicare alla crescita, all'ascolto e all'Italia. Quindi tante di queste persone sono diventate commissiliere comunali, sindaci, amministratori locali. Penso, conosco, creo, gli argomenti sono tanti dall'ambiente, alla sanità, all'economia, al fisco, alla costituzione, alla comunicazione politica. Da domenica 16 gennaio per sei domeniche chi ha partecipato negli anni passati ci chiede se può tornare a esserci. Quindi non perdete il tempo, non perdete l'occasione. www.scuoladiformazionepolitica.it per sei domeniche a Milano per prepararsi a governare questo splendido, unico, straordinario paese.